Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Taranto, Suo'Escendenza Ciro Miniero, finora Arcivescovo Pagliuttore dell'Arcidiocesi di Taranto. I nostri vivi e per loro si auguri. Con queste parole Monsignor Filippo Santoro, già Vescovo di Taranto, annuncia la nomina del nuovo Vescovo della Città dei Due Mari, Monsignor Ciro Miniero. Mi avete voluto bene sin dal mio arrivo, quando sono arrivato per mare, è stata una cosa indimenticabile. E poi dopo vi ho incontrati in tante situazioni, ma proprio tantissime, che mi porto nel cuore. Cioè proprio sentirmi a casa, sentirmi qui. E perciò ho deciso di rimanere qui, proprio vi abbraccio uno per uno. Mi colpisce l'affezione e anche la serietà. Quando sono dati gli stimoli giusti voi rispondete bene, andiamo avanti col successore mio. Monsignor Miniero ricopriva da tempo il ruolo di Vescovo Coadiutore, ma con l'arrivo della bolla papale che sancisce l'efficacia della rinuncia al Ministero dell'Arcivescovo Santoro, Taranto chiude un'era importante e si affaccia al futuro nel nome del suo nuovo pastore. Un abbraccio a tutti, particolarmente alle persone che con più difficoltà riescono a vivere questo tempo, per le patologie o per i problemi sociali di cui siamo vittime in poco tutti. E che il Signore ci doni la forza di guardare sempre con speranza il futuro e soprattutto ci aiuti a camminare sempre insieme nella ricerca del bene per tutti.